Presentato stamane a Trieste dall'europarlamentare del PD Isabella De Monte e dal segretario regionale Antonella Grimm, il primo Open S&D italiano. Una nuova convenzione politica con il patrocino del gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo che si svolgerà in due giornate a Trieste, il 26 e il 27 settembre e che vedrà la partecipazione di oltre 30 redattori di rilievo regionale, nazionale ed europeo. Noi siamo un partito che è favorevole ovviamente, anzi stimola il più possibile gli incontri pubblici e ci teniamo che ci sia anche un'idea europea di tutto ciò. Ecco, molto parliamo e deve essere così di questioni locali, questioni regionali, questioni nazionali ma in tutto questo dobbiamo anche mettere la dimensione europea, ecco di cui tanto sentiamo parlare lo abbiamo sentito in materia di Grecia, l'abbiamo sentito e continuiamo a sentirlo in materia di immigrazione, questo coinvolge tutti. La convention si terrà presso l'hotel Savoia e Accesso di Trieste e si aprirà sabato 26 alle ore 14, per poi proseguire dalle ore 9.30 di domenica 27. Avete invitato esponenti di partito, tecnici di alto livello, non solo di riferimento del PD. Sì, perché l'Europa è un'Europa di popoli, ecco io preferisco parlare dell'Europa in questi termini, non qualcosa confinato all'interno dei partiti, all'interno dei gruppi e quindi ecco questo è un primo evento ma l'obiettivo è che ce ne siano ancora molti altri per ampliare sempre di più il dibattito. Io ho voluto creare questo evento per mettere insieme non solo la politica ma anche l'impresa, anche le categorie, anche naturalmente dei parlamentari, consigli regionali, sindaci, proprio per creare un filo conduttore tra i territori e l'Europa. I cittadini potranno partecipare, fare delle domande anche puntuali, ci sarà uno spazio di cui anche tra virgolette il contingentamento dei tempi, proprio per permettere il più possibile ai cittadini di partecipare, fare delle domande, essere soprattutto loro i protagonisti di questo evento.